E' chiaro che sono calciatori che ho scelto io e che ho la responsabilità di quello che è successo, però sono dentro un percorso perché poi, ora questo lo devo dire, perché se no, anche se anche può sembrare che vada alla ricerca di trovare delle giustificazioni, però tutti gli altri allenatori hanno avuto 20 partite prima di fare una competizione europea, cioè qualcuno ne ha avuto i 30, io ne ho avuto i 10 e eravamo già con il fucile puntato, devi vincere, devi vincere, le ultime tre partite nella Macedonia non si erano vinte, anzi, però dovevo vincere e è giusto che debba vincere. Però poi probabilmente ho bisogno di più conoscenza diretta per poter chiappare il meglio, perché poi abbiamo avuto diversi giocatori infortunati sui quali io contavo. E oggi si è visto però che sotto l'aspetto dell'intensità siamo stati inferiori e la Svizzera si è qualificata in maniera giusta. Non è che sia un risultato così scandaloso come ora poi verrà fuori, perché poi se no bisogna ritornare, io ogni tanto siccome penso che la mia passione sia sintomo di profondo rispetto per tutti, perché questo è quello che vuol dire dimostrare passione e prendersi poi le responsabilità per quello che è la passione che hai. E quando mi si dice che poi contro la Croazia abbiamo fatto una partita scandalosa, no, ritorno a dire no, oggi abbiamo fatto a sottolivello, contro la Spagna abbiamo fatto a sottolivello, quella lì no. Per cui noi si è passato un turno difficile, secondo me meritatamente, dove però non si è vista una squadra che abbia una definizione di base, dove ci si può andare poi a costruire facilmente sopra, bisogna rimettere mano nel telaio che poi ho scelto, perché questo ha raccontato l'esperienza fatta. L'Inter ha vinto il campionato, poi io mi sono assicurato e ho visto che è una società seria perché i giocatori, Inzaghi ha fatto fare gli allenamenti in maniera corretta fino a un fondo perché eravamo in contatto con quelle che erano le frequenze dell'allenamento e via dicendo, Però può darsi che anche se richiedi quello mentalmente io mi involontariamente venga fatto di non essere così applicato, però sono due giocatori poi perché sono due giocatori, un paio si sono fortunati, Io ho fatto la scelta di giocare con un attaccante solo e di giocare poi con il 4-3-3 o con il 3-2-1, però non si è visto poi quella qualità che bisogna esibire, ecco eccetto la prima partita, Un po' con la Croazia nel secondo tempo, poi quando siamo stati costretti a giocare a ritmo alto non si riesce ad avere il ritmo alto per le caratteristiche e non si riesce a tirar fuori da quel ritmo lì la qualità che noi abbiamo, perché quando abbiamo recuperato palla anche stasera poi l'abbiamo ripersa spesso, non siamo stati così bravi ad andare a interpretare poi questi spazi degli avversari, ecco e quindi poi diventa tutto più difficile, però la differenza l'ha fatta il ritmo, ma non è un alibi, cioè quello che è successo, se è una bocciatura che io ho determinato con quelle che sono le mie scelte e con quelli che sono stati i miei comportamenti, mai dei ragazzi, non so se ci sarà qualcosa di diverso, però sono prove da fare alle quali ora io sono obbligato di farle, perché non ho altra scelta, ma senza voler male a nessuno e senza dare colpa a nessuno, ripeto, perché non vorrei averlo messo in dubbio, la responsabilità di quello che è successo è mia, dei calciatori non è mai, io sto sempre con i calciatori e li ringrazio di avermi portato qui, perché sennò bisogna dire sempre le stesse cose, per dove sono partito io, venire a giocare una partita qui, dove sto vincere quella roba lì ai nostri calciatori, per me è un'emozione unica, però non ho timore a venire qui, quando mi volete far paura o quando mi volete incutere che è ora, è ora, è ora, è ora, gioco io, perché per arrivare qui per me è sempre stata quella roba lì, cioè quella pressione lì io l'ho seguita fin dal giorno che ho deciso di fare l'allenatore per arrivare qui, per cui ora ci sono e c'era giocarla, io sono tranquillissimo nel giocarla, e l'altra volta io esco dalla partita e siccome ti arrivano subito commenti quello che è stato detto, quello che non è stato detto, e io mi sarei aspettato nella partita, quella che è stata la reazione dell'altro giorno, mi sarei aspettato che fino da ultimo, sì, forza dai ragazzi ce la possiamo fare, perché siamo dentro la partita, perché siamo, invece no, a qualcuno non gli viene dato il voto, molti quattro, si mettono tre, si ergono a Paladini, quegli altri tutti uno scandalo, e allora io bisogna reagisca, perché non ci posso stare a quelle robe lì, ecco, perché poi la pressione si sente, loro probabilmente la sentono più di me, perché sono nati e hanno giocato in delle società bellissime, io ho sempre fatto fatica tutta la mia vita, per cui questa pressione qui per me me la sono cercata giorno dopo giorno, lavorando giorno dopo giorno, e allora magari in modo sbagliato, però la reazione è quella di tentare di alleggerire la pressione ai miei calciatori, ecco, facendo in questa maniera qui, però poi succede stasera questo e la responsabilità è mia, appunto.